140 atleti esterni, 30 interni, 44 alle gare disputate, 9 delle quali dentro il carcere di Badoe e Carros. 12 le squadre coinvolte, 2 delle quali azzurra i gladiatori, composte da ospiti della casa circondariale. Sono questi i numeri della quinta edizione della manifestazione Liberi nello sport, promossa dalla SD Olympiacos, di nuoro in collaborazione con la direzione della casa circondariale, l'US Acli, le Acli e il Coni. Sabato all'interno di Badoe e Carros si disputerà la finale tra le formazioni Falignameria, Paolo Meloni e Tecno Erghe. Domani invece alle 21 in programma sul campo della Beata Maria Gabriella, la finale per il terzo posto tra Pistonca e Nord-Ovest Club. Stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata all'interno del carcere di Badoe e Carros è stato tracciato un bilancio della manifestazione. All'incontro sono intervenuti la direttrice Carla Ciavarella, Salvatore Rosa, presidente dell'Olimpiacos e ideatore del torneo, Leonardo Moro, vice sindaco di Nuoro, Sandro Florisi, presidente del CONI provinciale, Tore Urru, presidente provinciale delle Acli e Massimo Beconi, presidente dell'US Acli. Presenti anche il comandante della polizia penitenziaria Alessandro Caria e una delegazione delle 12 squadre partecipanti. La direttrice di Badoe e Carros ha sottolineato la grande importanza del progetto che consente di stabilire un ponte tra la comunità carceraria e la città, rendendo così pienamente attuale il discorso dell'umanizzazione della pena. Un concetto ribadito da tutti gli interventi che hanno posto l'accento sulla funzione educativa dello sport e sull'importanza di mettere in comunicazione la comunità del carcere con quella cittadina. Anche perché il progetto liberi nello sport ormai ha travalicato i confini nuoresi ed è posto all'attenzione del Ministero di Grazia e Giustizia del CONI. Un progetto educativo che però ha un'importante funzione sportiva perché tutti i partecipanti vogliono vincere. Quest'anno le due formazioni dei detenuti non sono arrivate in finale, ma la direttrice Ciavarella ha lanciato la sfida e ha invitato i ragazzi di Azzurra e dei gladiatori ad impegnarsi per conquistare la Coppa l'anno prossimo. Enzo a nome di tutti i detenuti ha ringraziato gli organizzatori, la direzione del carcere e gli avversari per la grande possibilità che hanno offerto loro partecipando al torneo. Ma già si pensa alla prossima edizione. Dalla direzione di Badecaros è arrivato un appello al Comune affinché intervenga per migliorare il campo di calcetto all'interno della struttura, mentre verrà posto in essere un protocollo di cessione di terreni demaniali attorno a Badecaros al Comune per la realizzazione di strutture sportive e parchi giochi.